Siamo contenti per questa vittoria, per il club, per noi e per i tifosi che ci hanno seguiti fin qui. Sulla partita posso dire che abbiamo cominciato a giocare una buona gara nel momento in cui abbiamo mosso la palla, fermando il palleggio. E la differenza l'ha fatta anche quando la nostra difesa ha messo pressione sulla palla, tenendogli uno contro uno degli avversari. La partita è stata positiva, siamo stati molto bravi a muovere la palla, come ha detto il coach. Non è stata una gara facile. Siamo stati molto bravi sulle situazioni di pick and roll, a far uscire il pallone dall'oro raddoppi difensivi. Siamo stati molto bravi sulle situazioni di pick and roll, a far uscire il pallone dall'oro raddoppi difensivi. È un buon gioco per tutti.